creature della foresta di sherwood benvenuti e buonanotte a tutti voi ed eccoci di nuovo qui in onda su radio sherwood e in video sui nostri canali social e sono qui per in compagnia di decretica cp ciao giacomo ciao buonasera e che appena finito di suonare sul main stage di sherwood prima volta sul mestiere di sherwood cosa vuol dire per te e cosa significa suonare su quel palco beh vabbè io ormai vivo a padova da otto anni quindi ho visto da quando sono qua ho visto sono venuto diciamo a vedere tutte le edizioni di sherwood che ci sono state prima come utente poi come diretto interessato insomma e come volontario e ci ho visto su sto palco qua che quest'anno è più piccolo però manco tanto tantissimi dei miei artisti preferiti anche come raccontavo prima sul palco lo sherwood era un festival che già conoscevo prima di venire qua perché tutte le mie band preferite in particolare i ministri erano passate da qua ed era uno di quei posti fichissimi che non sapevo bene dove era dove forse non sarei mai andato no e poi puttacaso mi sono trasferito a padova un po per sbaglio un po per caso per scoprire poi qualche mese dopo che questo fantomatico sherwood festival si faceva proprio a padova guarda un po e quindi questo palco qua su cui ho visto veramente tantissima roba per me importantissima ci averci suonato stasera è stata una roba una roba grossa dall'altra parte è stata una roba anche incredibilmente intima per assurdo perché è comunque in un parcheggio gigante no è stato è stato bello ecco non c'è stata neanche tanta ansia è stato tutto molto sereno non me lo aspettavo sei appena uscito con un nuovo singolo e che è una canzone provocatoria diciamo così è un po provocatoria e che cosa vuoi ribadire in questa canzone e soprattutto cosa è successo in questi vent'anni musicalmente parlando quantomeno vabbè musicalmente parlando è successo un sacco di cose il singolo si chiama di andrea è morto perché il messaggio della canzone è che di andrea è morto facciamoci una ragione la musica è andata avanti sono successe delle cose ma allo stesso tempo non è che quindi di andrea non va ascoltato anzi dobbiamo secondo me studiare il passato ascoltare quello che è già uscito in modo da salirci sopra e guardare più lontano no cioè in modo da ecco come si diceva salire su spalle di giganti per guardare più più lontano e fare cose nuove alla fine migliori no e invece si creano questi due schieramenti i vecchi che non sono gli anziani ci tengo sempre a specificarlo i vecchi dentro che che dicono che la musica si è firmata ad un certo punto e quindi ascoltano solo ecco di andrea pin floyd e zeppelin eccetera e un altro schieramento di più giovani che classificano tutto quello che è uscito prima di dieci anni fa come vecchiume e si rifiutano di ascoltarlo sono abbastanza sicuro che ci sia una via di mezzo tra queste due cose e che invece perché il rischio se non si ascoltano i classici è che si faccia qualcosa di nuovo pensando che sia nuovo che sia innovativo e invece no magari qualcuno l'ha già fatto 50 anni fa magari l'ha fatto celentano capito quella cosa lì che tu avevi classificato come vecchiume e questo è un po il messaggio della canzone cioè dire ok di andrea è morto minchia ascolta anche altre cose dai delle possibilità ad altri artisti contemporanei però dice anche agli artisti contemporanei comunque classici ascoltiamoli sul palco hai nominato direttamente indirettamente una serie di grandi musicisti italiani e faccio un paio di nomi buscaglione indirettamente toffolo e alcuni citandoli chiaramente come degli esempi per te altri con una critica ma si legge anche dell'amore però ti chiedo se dovessi citare due tre artisti stranieri che hanno ispirato la tua musica e che credi che siano stati importanti per te almeno in quello che tu vuoi portare oggi ai tuoi ascoltatori ai tuoi a chi compri i tuoi dischi allora darò due nomi uno prevedibile che è Woody Guthrie che è il padrino il fondatore non so come dire del combat folk del folk impegnato all'americana un artista incredibile senza il quale bob dylan starebbe facendo l'avvocato non so comunque un altro mestiere Woody Guthrie era un vagabondo era un poeta era un giornalista un sacco di cose la sua vita e la sua musica mi hanno colpito tantissimo e le mie canzoni le canzoni più folk diciamo che ho fatto nell'ultimo paio d'anni vengono da Woody Guthrie anche il fatto che sulla mia chitarra io scrivo questo attrezzo ammazza i fascisti è una cosa che la traduzione diciamo di this machine is fascist viene da lui cioè è stato lui il primo a scriverlo sulla sulla chitarra e io l'ho tradotto in italiano perché secondo me la frase in inglese ormai è diventata quasi pop ormai si può dire senza restare grande scandalo in italiano ti prendi delle responsabilità diciamo l'altro nome altrettanto inaspettatamente sono i blink 182 perché sono stati il primo gruppo l'ho scoperti quando avevo 14 anni e mi hanno aperto tutto questo mondo prima del pop punk poi del punk poi dell'arcollo insomma sono stati un punto di partenza importante per scoprire tutto quello che ho ascoltato dopo e ma soprattutto siccome l'ho ascoltati tantissimo in un momento di formazione della vita delle persone in un'età importante mi rendo conto che tantissime cose che oggi mi piacciono è perché hanno qualcosa dei blink dentro il riff fatto in un certo modo il crescendo fatto in una certa maniera impercettibili eh cioè mi rendo conto io che questo è un film russo che esiste tra i miei ascolti però nessuno nessun critico si lancierebbe a dire questa cosa qui giustamente e io mi rendo conto che a volte quando compongo i pezzi ci sono dei passaggi alla blink tipo una barricata c'è la parte di quei bassi diciamo il bridge centrale che mi piace molto suonarlo perché è molto blink secondo me ed eccoci qua allora hai nominato il tuo EP chiamiamolo è un album è un EP perché c'è anche questa distinzione è una domanda difficile nel senso che per me io l'ho sempre pensato come un album poi sono sei pezzi e quindi se lo metti su Spotify in automatico te lo classifica come EP cioè se ne fai sette è un album se ne fai sei è un EP dopo l'album può durare venti minuti e l'EP 35 però quindi per Spotify è un EP per me è un album non so una via di mezzo cioè non è proprio l'album non mi sento di dire che è il mio album d'esordio ecco dall'altra parte l'ho sempre ragionato come l'ho sempre chiamato il mio disco ecco perché non è né l'uno né l'altro sul tuo disco facciamoci una barricata ci sono una serie di temi profondi di appunto di combat folk cerchi di raccontare delle cose delle cose profonde sei un ragazzo di provincia quindi si può togliere il ragazzo dalla provincia ma non la provincia dal ragazzo e ti chiedo quindi quanto quanto c'è della provincia quanto c'è di un certo modo di scorrere del tempo anche di narrare il tempo che scorre quindi di attraversare le giornate nel tuo percorso artistico a tutto tondo non solamente come artista musicale e se mai percepito questa differenza magari parlando con altri artisti o confrontandoti con altri autori con qualcuno che mai fosse nato agli antipodi rispetto a te non lo so a Milano a Roma in una grande città io ho veramente l'impressione che artisticamente parlando niente può venire dalla metropoli la metropoli può amplificare, può diffondere però nessun artista musicale, grafico, narratore, quello che vuoi è molto raro che venga da una situazione che non sia di disagio o di provincialità che può essere anche provincialità periferica quindi sì sei andato a Milano ma a settimo milanese magari o nei quartieri popolari è raro che comunque viene da una realtà di marginalità non è una legge assoluta però mi sono accorto che la maggior parte degli artisti più interessanti vengono da posti che non si caga nessuno e che poi vanno a Milano e a Roma o quel che è per avere un amplificatore delle loro cose tu sei un artista che coltiva anche cioè non sei solamente un musicista sei principalmente un fumettista sì e ti dico hai fatto un lavoro sui FASC qualche tempo fa e ad esempio tutto questo nuovo mondo musicale italiano che ormai sta anche andando in estinzione quasi cosa ti ha portato sia musicalmente e sia perché non è vicino alla musica che fai perché tu fai qualcosa di completamente diverso fai chitarra non è del tutto vero secondo me cioè capisco quello che vuoi dire c'è una differenza di base sul fatto che io suono da solo e loro suono una band intanto per cui proprio a livello di musicalità ci sono delle differenze insormontabili almeno al momento ciò non toglie che ci sono siccome anche i FASC sono un gruppo i Fast Animal Sands Low Kids che guarda un po' vengono da Perugia che è un altro posto piccolino relativamente piccolo e sono un gruppo che sono un gruppo molto importante per me con cui appunto ho avuto l'onore di collaborare per il loro fumetto ufficiale e mi rendo conto che per esempio ci sono dei pezzi che ho fatto che sono un po' FASC lo so io non lo sa l'ascoltatore non lo direbbe mai neanche per sbaglio però mi rendo conto che magari ho fatto quel passaggio lì quella vocalità lì quella robina lì che dice questo è un po' FASC lo dico a me per me stesso non è che questo secondo me è figlio anche che il chitarrista dei FASC che crea molti dei riff principali dei brani è un grandissimo fan dei Blink e quindi c'è questa influenza di fondo comune che secondo me ha un ruolo quindi diciamo la differenza forse la distanza c'è ma non così tanta e forse su alcune cose a livello di indole ecco di fame di fare le cose ci siamo trovati molto bene secondo me come fuentista a cosa stai lavorando e che cosa hai proposto ultimamente che così il nostro pubblico scopre un'altra parte del tuo io beh allora adesso sto lavorando a diverse cose partiamo dai progetti più piccoli è in uscita un'antologia autoprodotta partita presto il crowdfunding per produrla con tantissimi artisti e artiste che vivono in Veneto sarà un'antologia a fumetti ispirata a racconti di Edgar Allan Po progetto molto figo curato da Anita Zaramella e studio Pazzia e ho fatto appunto uno di questi capitoli a fumetti che è un progetto diciamo appunto autoprodotto progetto grosso che in realtà mi sta occupando da due anni penso ormai è la biografia a fumetti di Fred Buscaglione è la prima volta che lo dico così ufficialmente ai microfoni se state lavorando la biografia a fumetti di Fred Buscaglione l'ho appena annunciata siete bruciati che uscirà verrà annunciata ufficialmente verso novembre che è il centenario della nascita di Fred e uscirà probabilmente inizio 2022 e se tutto va bene insieme a un EP di cover di Fred una delle quali avete sentito anche stasera insomma per il modo in cui lo sto affrontando questo libro qui è un po' il libro della vita cioè un po' è il progetto più grosso che abbiamo mai fatto ecco e allora auguri complimenti grazie e da Radio Sherwood la migliore alternativa è tutto ringraziamo Clementine e Annette alla regia ringraziamo ancora The Gretica CP per averci accompagnato questa sera grazie grazie a tutti a tutti voi a te studio